Sì, è veramente entusiasmante vedere questi ragazzi che riescono a fare squadra, che si danno una mano e che hanno questa etica dello sport così genuina, così vera, ed è un po' il DNA della nostra azienda e quindi è da qui che nasce questa comunione che noi sentiamo veramente solida e che ci funge da mutua ispirazione. Quindi noi vi ringraziamo perché è veramente bellissimo avere questi giovani da noi e vi saremo vicini per tutto il tempo a venire. Assolutamente, noi siamo tra le pochissime società con così tanta fibra ottica ma senza quotazioni in borsa, senza finanza. Noi teniamo a fare quello che facciamo come voi, per passione, per aiutare il nostro territorio a progredire nel digitale. Per salutarci un augurio alla Francia Pallavoloressa. Ragazzi in gamba, spacchiamo tutto!